Buongiorno a tutti ragazzi, qui è un minuto di staff di www.letsplayfifu.it Link pagina facebook al nostro sito in descrizione E oggi siamo qua con un nuovo video, un pack opening Dedicato al team of the match day number 1 Domani uscirà il team of the match day number 2 E oggi siamo qua per un pack opening con due pacchetti da 50k Pacchetti giocatori rari con 12 giocatori, tutti oro e tutti rari Quindi tentiamo la fortuna visto che tutti trovano tutto Proviamo anche noi, anche se non sono sicuro di ciò che accadrà in questo video Molto probabilmente non troveremo nessuno, quindi partiamo con il primo pacchetto FIFA Ultimate Team, bel pacchetto dedicato al Brasile Un po' fatta male l'immagine visto che è tutta spostata in là Comunque saltiamo ora Saltiamo ora e troviamo una beata minchia Ah beh dai abbiamo trovato Florenzi, abbiamo trovato Osvaldo, abbiamo trovato Gomez Grandissimo Gomez Tradotto non abbiamo trovato una sega Ed eliminiamo tutto Questa è la volta buona Perché quando apri i pacchetti in questa maniera Quando apri i pacchetti con le mani ragazzi Trovo tutti cazzo, trovo tutti Trovo tutti, tutte merde Trovo tutte merde Bene Ragazzi Spettacolo di pacchetto anche questo Ci rimangono 19.000 credit quindi apriamo No dai questi li inviamo tutti al club Apriamo anche due pacchetti da 7500 perché Teniamo il Sharawi Invia la lista dei trasferimenti Sono proprio infortunato con i pacchetti E questo eliminiamo tutto anche se vale qualcosa E quindi apriamo anche questo pacchetto però lo apriamo con l'alluce Avete sentito il joystick che è stato lanciato per terra L'ho premuto con l'alluce Sapete perché? Perché donna bagnata, donna fortunata Ma anche l'uomo se la donna è bagnata è molto fortunato Quindi l'alluce serve perché ieri mi è caduta una trave sul dito E quindi abbiamo trovato l'unico 85 che mi fa cagare il cazzo Abbiamo trovato l'unico 85 che mi fa cagare il cazzo Avete capito? L'unico 85 che mi fa cagare il cazzo E quindi per ripicca elimino tutto Ah 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 Bene Oh Marcos Junior Varrà qualcosa conoscendo No, non eliminare tutto Vediamo quanto vale Chissà che non ho trovato l'argento Quello che vale come al solito 50.000 crediti Si vale proprio 50.000 crediti E quindi con questo pack Vi saluto, vi ringrazio Forza Roma, Basso Lazio Purtroppo come al solito Questi pack opening Non mi portano nulla in casa E ci vediamo al prossimo video Bye bye Pensavate di esservi liberati di me E invece no cazzo Invece no perché sono entrato anche nell'altro account Quello di Andri Adesso aprirò altri due maledettissimi pacchetti di merda Da 50.000 crediti Perché mi piace sputtanare crediti Però intanto vedete 238.900 secchi Ed è un numero che mi piace Ed abbiamo trovato Di Maria Abbiamo trovato Di Maria Insomma ragazzi Di Maria Adesso vedo quanto vale Perché ovviamente lui ha la lista trasferimenti piena Anzi vediamo intanto cos'ha in lista trasferimenti Bene 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 Sì facciamoci Oila Ecco queste sono tutte le player review che abbiamo fatto Almeno non tutte ma tante Guardate che belli che erano Qui tre messi lì Can drive a man of the match E quindi inviamo Di Maria al club Anzi inviamo tutto al club Perché siamo dei bravi ragazzi A parte Fred Fred hai fatto lo stronzo con la Croazia E io ora ti elimino Quindi vedete anche voi come ci sono 239.556 crediti Per questo pacchetto Con 47.100 crediti E no E sport football credits E abbiamo trovato Dante Abbiamo trovato Dante e William Abbiamo trovato Dante e William e Pogba E Cherchi e Bender E Dante Ma nessuno che valga più di 50 cazzo mila di crediti Quindi avete capito Come anche nell'account di Andri Ci sia andata veramente Ma veramente Ma veramente Di culo ragazzi Cazzo E visto che non c'hai due E senza tre Allora Ci è andata male due volte Perché non farlo andare male Un'altra volta Questa è l'ultima ora Dei pacchetti da 50 mila crediti Quindi apriamone altri due E sputtaniamo altri 100 mila crediti Poi vi prometto che Non mi vedrete più Per l'occasione Visto che le prime due volte Ci è andata male Senza la webcam Ho detto Beh mettiamo la webcam Quindi Con la webcam Abbiamo trovato Roba ancora peggio di prima Joystick in bocca Che è che abbiamo trovato? Vabbè Ragazzi Io ci rinuncio Non farò più Pack opening Mi sa perché Vorrei tanto bestemmiare Però Non si può Perché trovare In un fottuto pack Da 50 mila crediti Shade dude Vaffanculo E ovviamente Si è pure spenta La GoPro Perché Se tutto deve andare male Va tutto male Ragazzi Con questo vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo Al prossimo video Bye 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 bye